Sono onestamente molto deluso da come la squadra ha giocato, l'ho detto ai giocatori adesso non si può giocare così, abbiamo concesso addirittura l'occasione del 2-2 nell'extra time in contropiede abbiamo praticamente tirato in porta due volte in tutta la partita, loro hanno avuto 5 occasioni da gol e quindi certamente non sono contento di quello che ho visto e soprattutto veniamo già da un parigio in casa, quindi in due partite abbiamo fatto 4 tiri in porta e questa cosa è inaccettabile, cominciamo a denotare atteggiamenti un po' superficiali che vanno cambiati soprattutto perché domenica abbiamo una partita che se la affrontiamo nella maniera giusta e vinciamo creiamo un solco di 5 punti con le avversarie che poi diventa difficile per loro recuperare quindi sono un po' deluso da quello che ho visto, va bene il risultato ma il risultato poi deve essere anche perché si può vincere anche 1-0, 2-1 ma tirando in porta, avendo occasioni, gestendo bene la partita oggi abbiamo giocato malissimo sicuramente oggi di buono dobbiamo prenderci 3 punti e di buono dobbiamo prenderci la fortuna che abbiamo di lavorare su quello che oggi abbiamo fatto male dopo una vittoria e questo non è una cosa che ha un valore da poco perché quando vinci è più semplice lavorare su quello che hai fatto male e quindi oggi noi abbiamo il dovere di resettare, di ragionare perché non abbiamo fatto una buona partita anzi abbiamo fatto una cattiva partita abbiamo forse un po' sottovalutato l'avversario perché le continue chiacchiere che si sentono e poi purtroppo ce le portiamo nel campo perché la settimana dove ci parla è San Luca ci saranno le cariche societarie, di qua, di là, addirittura vengono o non vengono e tutte queste discussioni di qua magari poi non sono stato forse bravo io a gestirle bene e aver trasmettuto alla squadra le stesse intensità che abbiamo fatto in altre partite